Non è che veloce, te la parola. Adesso spiego. Allora, per il quarantesimo abbiamo deciso di venire prima e di fare votare il pubblico così. Il pubblico che di solito parte, le piace, oh che bello ma non capisce. E' una sorpresa incredibile, perché sono di tantissimi bambini e noi mai più dai bambini ci saremmo aspettati che, allora vi faccio vedere, avevamo dei pinettini, loro li hanno e hanno messo tutti il loro numerino, quindi mai più dai bambini ci saremmo immaginati che vincesse, dov'è? Dov'è il mio amico Dore? Hanno votato il Leopold. Dov'è stato? E' andato a mettere a mettere a mettere a mettere a mettere. E allora chiamatelo a mettere. Non lo vuoi chiamare. E' andato. Allora non lo dice. Non lo vuoi chiamare. Non lo vuoi chiamare. Non lo vuoi sotteggiare a lui. E' capito. Sotteggiamo uno signore del pubblico. E' il tuo padre è uno signore del pubblico. Certo. Chi vuoi sotteggiare? Dai. Beh, è appena. Ok. Sai? Segui? Non so chi è, da scovocato al Messina, ha vinto il cellulare, col cellulare, non c'è nessuna rischia di l'aria. 3-4-7-1-9-9-0-4-5-6, la faccia della playa su qui. Va bene, la prenderemo, li premo. Sì, abbiamo finito. Abbiamo finito, sì. Abbiamo finito per il modo di dire, perché rimane ancora questa cosa più grossa. Abbiamo finito per gli enti che ci hanno aiutato, per le persone che ci hanno aiutate. Abbiamo presente la signora D'Arcoloppo e per il nostro amico, lei, in piaceremento. Grazie di cuore. Ottone, ma nel governo ce ne vai? E' un po' di caratteristica. E' un po' di caratteristica. Ma lo sai che il pubblico ha votato il pubblico? E' con le papine. Esatto. Bello, sono contentissimo. E' un po' di caratteristica. E' un po' di caratteristica. Ciao, ciao. Ma non scappare adesso, dai. Però sono tutto carinato. Ma se no che hai tanto, non è. Eh, no, no, no. Vai, vai. Siamo arrivati al momento in cui deve essere consegnato il trofeo. Per la diciottesima edizione, 40 anni, di votazione, del club CSI Moda di Totò. Allora, il trofeo è intitolato alla memoria del signor Enrico Persichini, ex presidente del gruppo di Pozzolo Tropegato. E' stato il primo. E' stato il primo presidente del gruppo di Pozzolo Tropegato. Ed è quindi con particolare piacere e particolare orgoglio che il gruppo ha assegnato questo premio. e a questo punto ho lasciato la parola al presidente. Allora, noi abbiamo fatto questo pensiero a una persona molto cara a noi. Che ci ha, sono anni che ci segue, sono anni che con noi partecipa, ci invita. Cioè a un continuo contatto e di un signore di una certa età, mezza età. Noi abbiamo pensato di fargli un regalo grosso, di avere un altro giovane del nostro gruppo di una certa età, che dona a questo signore il nostro pensiero, il nostro ricordo, per sempre sarà. Perché siamo molto, diciamo, si può dire, legati, molto legati a questo personaggio. E speriamo di vederlo per tanti anni. Naturalmente, allora, il trofeo, ragazzi, è una cosa che andava bene a tutti. perché sono dei pezzi veramente belli. Noi abbiamo fatto col cuore questa persona, perché ci sembrava giusto farla. E in coloro che chiamiamo solamente il nome. Uno, due, tre. Humberto! Un'altra! 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 Grazie. Vorrei ringraziare tutti per la partecipazione e poi augurare a tutti in casa, sperando che siano tutti abbassati d'accordo con quella che è stata la ragazza. Se ci fossero dei dubbi, non siamo qua per sentirci dire di tutto. Va bene. Arrivederci a tutti.